Pronostico Tenerife-Alaves, padroni casa favoriti ma All'estadio Iodoro Rodriguez-Lopez va in scena la sfida tra il Tenerife e l'Alaves. I padroni di casa hanno 14 punti in meno dei baschi ma prendendo in considerazione soltanto i risultati fatti registrare dal Tenerife in casa e quelli centrati in trasferta dall'Alaves si nota subito come la classifica virtuale vedrebbe Iki Carreros con due punti di vantaggio sulla capolista. Entrando nel dettaglio il Tenerife con 10 gol all'attivo e 6 al passivo ha fatto registrare 4 vittorie. 3 pareggi e 2 sconfitte mentre l'Alaves lontano dai Lidi amici con 9 gol fatti e 11 subiti vanta 3 successi. 4 pareggi e 2 KO. Fai ora i tuoi pronostici una combo in controtendenza. Scopri il pronostico nel ruolino di marcia del Tenerife il segno X manca all'appello da ben 8 giornate consecutive. Con l'Alaves in campo invece il segno 2 non si vede da ben 7 gare di fila. In controtendenza la combo che lega la doppia chance X2 e l'Under 3,5 moltiplica la posta per circa 1,70. Virgola.